Secondo gli Stati Uniti, Saif Al-Adel, il nuovo capo di Al-Qaeda, avrebbe addestrato gli attentatori dell'11 settembre, Giovanni Battista Brunori. Sulla sua testa pende una taglia da 10 milioni di dollari. Si muove con spietata efficienza e uno dei più esperti soldati del movimento jihadista mondiale, afferma chi gli dà la caccia. Saif Al-Adel, 62 anni, egiziano, ex tenente colonnello delle forze speciali del Cairo e il nuovo leader di Al-Qaeda, uomo della vecchia guardia dell'organizzazione sunnita fondata alla fine degli anni 80 da Osama Bin Laden. Già accusato degli attacchi alle ambasciate americane in Africa orientale nel 1998, Saif Al-Adel ha addestrato alcuni dirottatori dell'11 settembre 2001. Il terrorista, affermano al Dipartimento di Stato americano, ha preso il posto di Al-Zawahiri, ucciso a luglio a Kabul da un razzo statunitense. Secondo la Casa Bianca e le Nazioni Unite, il terrorista vivrebbe in Iran da almeno 20 anni, inizialmente agli arresti domiciliari, ma in seguito abbastanza libero da poter compiere viaggi in Pakistan. L'offerta di offrire un luogo sicuro ad Al-Qaeda, afferma il portavoce Ned Price, è solo un altro esempio dell'ampio sostegno che l'Iran fornisce al terrorismo in Medio Oriente e non solo. Grazie a tutti.